Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cosa è successo, ti vogliamo ricordare di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per rimanere aggiornato con tutti i prossimi contenuti. Millie Carlucci ha nuovamente sorpreso tutti i suoi fan. Dopo aver anticipato un annuncio speciale sulla pagina ufficiale di Ballando con le stelle in occasione del Ferragosto, ha finalmente svelato un nome di grande prestigio per la prossima edizione, Ricky Tognazzi. Ricky Tognazzi, celebre attore e regista, non è nuovo al palcoscenico del programma. Nell'edizione del 2022, aveva brillato come ballerino per una notte, ottenendo consensi entusiastici da parte del pubblico e della critica. Questa volta, ha accettato l'invito di Millie per unirsi al cast ufficiale e competere nella prossima edizione dello spettacolo. Un video promozionale, diffuso attraverso i canali ufficiali del programma, mostra Tognazzi durante un allenamento intenso, con la presenza della moglie Simona Itzo a dargli supporto. L'attore è determinato a prepararsi nel migliore dei modi e non esita a sottoporsi a massaggi per affrontare con dedizione questa nuova sfida. Questa partecipazione rappresenta il secondo impegno televisivo di Tognazzi sotto la guida di Millie Carlucci, dopo la sua apparizione nella quarta edizione del Cantante Mascherato. Ma Tognazzi non sarà l'unico volto noto. Anche se non sono ancora state confermate ufficialmente, sono circolate voci di personaggi di spicco come Simona Ventura, Bruno Barbieri, Teo Mammuccari e Bobby Solo, che potrebbero unirsi al cast di Ballando con le stelle. Inoltre, mentre cresce l'attesa per la nuova edizione, si susseguono le speculazioni riguardo alla partecipazione di Barbara Durso. Ancora non è chiaro se assumerà il ruolo di concorrente o se farà una comparsa speciale come ballerina per una notte. Per quanto riguarda la giuria, i dettagli rimangono avvolti nel mistero, nonostante le numerose voci che circolano. Millie Carlucci ha recentemente dichiarato in un'intervista con Francesca Fialdini che la selezione non è stata ancora completata e che i dettagli sulla giuria e tutto il resto verranno svelati a settembre. Con tutti questi sviluppi, la nuova edizione di Ballando con le stelle si preannuncia come un'esperienza televisiva imperdibile. Non vediamo l'ora di scoprire quali altri talenti si uniranno al palcoscenico e come si svilupperà la competizione. Non dimenticare di lasciare un commento alla fine del video e di seguirci per rimanere aggiornato con tutte le novità. Grazie per averci seguito e a presto con un nuovo video! Grazie a tutti!